Asili nido fuori legge, privi dei regolari permessi, con personale educativo sprovviso dei necessari titoli, senza rispetto delle norme igieniche, in una parola nidi abusivi. Un fenomeno dilagante, anche perché queste strutture fuori norma offrono ovviamente tariffe concorrenziali. A marzo la Commissione Scuola dell'Assemblea Capitolina, di concerto con il Dipartimento Politiche Educative e con la Polizia Locale, ha diramato una circolare indirizzata ai 15 municipi della capitale. Lo scopo era quello di invitarli a far pervenire alla Polizia Municipale segnalazioni di possibili irregolarità. I municipi comunicheranno alla Polizia Locale per avviare questa azione di verifica delle situazioni anomale. L'obiettivo è quello di controllare mensilmente l'applicazione della circolare, ma considerato l'attuale periodo di ponti e festività, la prima verifica arriverà all'inizio di maggio. Per quanto riguarda i dati, aspettiamo la verifica in modo da poter fare un'attenta valutazione del fenomeno. Quindi al momento i dati ancora non sono nelle nostre disponibilità. Dalla data della circolare alla Polizia di Roma Capitale per ora non sembrano essere pervenute segnalazioni. Tuttavia il timore è che il fenomeno dei nidi fuori norma possa essere molto ampio. Per quanto variabile da un municipio all'altro, le strutture non in regola potrebbero essere centinaia. Le situazioni dei nidi privati, spiega l'assessore al sociale del Campidoglio Laura Baldassarre, vanno analizzate caso per caso per garantire il rispetto della legalità. Vogliamo asili nido di qualità, aggiunge Baldassarre. Per questo abbiamo investito nella stabilizzazione del personale educativo dei nidi comunali, nella formazione e ora anche nei controlli delle strutture private. E non a caso la Polizia Locale ha pronta una lista di nidi per controlli campione che partiranno a giorni.